buonasera ragazze e benvenute nel mio canale stasera non vedrete il mio viso ma vedrete inquadrato un'anta diciamo la parte centrale le due ante del mio armadio della camera da letto perché questa sera voglio mostrarvi diciamo quella che è un po la mia passione e il motivo per il quale ho deciso di chiamare il mio canale flow bag io sono una patita e lo dico proprio con molta sincerità forse più che patita ossessionata pazza di tutto di più per tutto ciò che ha a che fare con le borse borse in ogni sua forma dimensione colore e borsa intesa come non so come spiegarvi tutto ciò che ha una cerniera che ha una zip quindi che può essere una pochette che può essere un astuccio che può essere una borsa dalla più piccola alla più grande a me ragazze fanno impazzire e coltivo questa passione sin da quando ero piccola adesso qui nell'armadio ne ho alcune diciamo di quelle che più utilizzo frequentemente mentre sotto in garage ho praticamente o due o tre ordinelli sapete quelle valigette diciamo grandi in in plastica acquistate da Ikea piene 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 di borse o borse conservate dall'età dell'adolescenza e non lo so mi fa troppo peccato buttarle non mi va poi penso che magari qualcuna potrebbe ritornare di moda e così è e poi vi posso assicurare veramente ed effettivamente se potessi ve le mostrerei una per una che sono tenute di un bene ma di un bene che sono sembrano veramente nuove per cui tranquillamente le posso conservare nel tempo le suddivido per stagioni infatti sotto in garage ho quelle che principalmente riguardano le le borse estive comunque poiché mi sto perdendo in chiacchiere quindi corre il rischio di annoiarvi apro l'anta del mio armadio non fate caso al disordine che c'è e vi faccio una prima diciamo carellata ecco qui di quelle che sono oddio forse non si vedrà molto bene di quelle che sono le borse che tengo qui in questa parte dell'armadio dell'armadio e vi assicuro che ce ne sono purtroppo il video la luce non rende bene sono messe praticamente una sull'altra sono borse alcune di marca alcune comprate al mercato alcune comprate su ebay altre sono state regalate da mio marito questa è la prima carellata magari se c'è l'occasione o se vi interessa ve le posso mostrare ad una duna o parlarvi delle caratteristiche di una borsa piuttosto che che di un'altra e adesso mi sposto questa è una parte del mio armadio nell'altra anta dove ok qui sotto ci sono i vestiti qua c'è la mia hello kitty gigante con la mia foto guardate un po ragazze vi faccio vedere una cosa io sono un'istruttrice di aerobica e step questo è il mio gruppo della palestra vabbè ma questo poi ve ne parlerò più avanti di un'altra mia passione ed ecco qua un'altra carellata di borse allora devo dirvi una cosa io mi sono trasferita in questa casa da poco quindi praticamente un po per mancanza di tempo un po per lo stress del trasloco un po perché ancora ragazze ancora dopo cinque mesi escono scatole ed escono cose da sistemare ancora non sono riuscita a trovare un metodo buono per poter sistemare le borse anzi se ne avete qualcuno da suggerirmi da consigliarmi un modo diciamo pratico per poter sistemare le borse e poterle vedere non accadastarle così come sono messe in questo momento mi farebbe molto piacere se mi date qualche suggerimento ve le faccio vedere così anche se un po tutto in disordine perché ci tenevo a mettervi al corrente di questa mia passione come vedete sono anche borsoni questo qua tipo il borsone della why not che utilizzo per la palestra questa è una borsa di 10 nem poi c'è uno zaino di carpisa questa è una borsa nuova di carpisa ecco adesso questo è un jeans che non c'entra niente questa è una borsa nera con tutte le borchie e invece nell'altra anta scusate ogni tanto si vede qualche qualche dito e la mia preferita è questa qua che è una valigiana immensa questo colore verdone militare una valigia immensa praticamente comprata solamente 29 euro da eccelema ed è veramente fantastica mi porta il mondo dentro questa borsa se vi interessa un whatsapp bag o vi interessa vedere qualche borsa in particolare fatemelo sapere niente ragazze questo è un video che ho voluto farvi per darvi così un piccolo accenno sulla mia passione sul motivo per il quale ho chiamato il mio titolo il mio canale appunto flow bag se vi interessa qualcosa avete qualche domanda fatemi sapere nel frattempo vi sto facendo un piccolo piccolissimo room tour va bene niente ragazze vi saluto vi auguro una buona serata sono già quasi le nove e mezza quindi è tempo di chiudere andare dai miei bambini dalla mia famiglia ragazze vi saluto un bacio e al prossimo video ciao ciao